Ciao ragazzi, vi volevo far vedere questo video di questo disegno che l'ho fatto io poco, no poco fa, l'ho fatto ieri sera tra mezzanette e mezza luna di notte, stanotte, perché non c'è ancora sonno e ho smesso di giocare al mio videogioco a Let's Box One S E allora mi ha sperato a fare questo disegno, per ora non ho fatto altri disegni su questo blocco notes da disegno, ma con quell'altro più grande, con questo tonità di colore bianco di disegno l'ho fatto tempo fa, l'ho fatto vedere anche i video indietro, non ne ricordo mai, consigliate quando va a fare il prossimo video e se non mi sbaglio l'ho fatto con quell'altro video, il video prima, prima di questo, molto prima di questo, e vedere quell'altro disegno che ho fatto Mi sono aspirato, ho visto un disegno su internet, solo lo che vi faccio vedere, ho scritto disegni e disegni, e mi faccio vedere solo la faccia, simile a questa ma Una le ho questa ma io l'ho cambiata, era più cicciotta, da qui al su era più cicciotta, che quindi andava a restringersi, e io l'ho personalizzata somigliandoli a quella, sicuramente lo vedete per poco, l'immagine nel video che mi posterò insieme a questo pezzo qua del mini Di due minuti, e più o meno quasi due minuti Spero che vi piaccia, consigliatemi sotto i commenti cosa fare nel prossimo video Lasciate un pollice in su se vi piace Lasciate molte video lezioni, seguitemi sul mio canale youtube dark2.0lark e dite ai vostri amici, ai vostri compagni, di classi, e ai vostri familiari di seguirmi per favore se vi interessa, per favore ciao Grazie 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 Grazie